Andiamo eh, tutto con una botta eh, questo già ce l'avevi, questo lo ho fatto io eh, poi qui abbiamo ripassato quello vecchio e l'altra volta, che è una maronnina, del sacro cuore, bello Gesù, so lo siamo fatti di nuovo nuovo e qui c'avevi sta scritta che non ci sta più, e mo questa qui mi ha la rotta perfezionale la prossima, perché oggi non ce la facciamo tutta una volta, però l'amo coperta, così rimane, dagli, bellissimo, sei contento Ale? Dai, sono contento, dagli, dagli, sono felice, e dai andiamo, e andiamo ragazzi, poi tocca continuare solo tutto, riempimo, e se ne fanno tutto modello Gesù, e dagli.